Beh, quest'anno in particolare la ricorrenza è importante anche perché quest'anno decorrono i cento anni dalla nascita del generale. Insieme con il sacrificio del generale della Chiesa, ma vorrei ricordare anche il sacrificio della gente di scorta, la gente scelta dalla Polizia di Stato, Domenico Russo, e della moglie, un esempio di coraggio mulie di non poco conto, Emanuela Setti Carraro. Ma insieme con lui vorrei ricordare i 19 carabinieri vittime della mafia solo negli ultimi 50 anni e tutti gli altri carabinieri caduti o rimasti lesionati nell'adempimento del dovere contro la mafia, ma anche contro altre forme di criminalità. Perché è importante la figura del generale della Chiesa? Per tanti motivi, ma in particolare il concetto del coordinamento, perché quel rapporto con primo firmatario il generale della Chiesa era firmato dalle migliori intelligenze investigative dell'arma dei carabinieri e della Polizia di Stato. E poi come dimenticare la relazione conclusiva che lui fece alla commissione antimafia. una relazione importante insieme con il rapporto appena ricordato, perché forse per la prima volta si dà una ricostruzione aggiornata, unitaria, organica e prospettica del fenomeno mafioso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.